Un saluto, capitano Ottimo Ezzoccoli, Pony numero 3, capitano Manuel Savani sul 4 e sul 5, poi rotazione del 4 e del 5 a riprendere le posizioni via ai colorati e andiamo su a pieno di due, la fine della Nazionale Stradella è reale, per la punta, per il nostro centese, per il tempo, per il nostro centro, per l'altro, per il mezzo dell'olipic, da destra, in arrivo, il nostro, sono i saluti